il mindshot data center questa è nuova porco dio molto diventato un comodino arrivo come faccio a capire se sto in singolo ma ecco così è quando vedi premisse ho la x se lo tieni premuto sei in sicuro ma non so se l'avranno aggiornata io spero di sì perché ci hanno fatto scaricare della roba due giga di patcha erano un po poveri nemici le nuove comunque 90 giga al gioco porco dio è una barca una barca al seno però almeno non lag e graficamente è bello però è simpatico il mindshot e quanti fps fanno io lo devo bloccare a 60 perché sennò la mia stream scatta a me va da 280 divo cazzo ma vi stanno già frulla e l'ho cucinato questi sono i rifugi amazon vero ma senti che panico non spedendo ci stanno tutti i soldi di pubblicità mi ha fatto male alla gamba portando un civile vabbè non era molto un civile io sto contro la de foria che c'è gente strana mi so non è che piange ma sacralo guarda se chiede la peggolata prima è che sicurezza il civile ma basta basta ricarica tutto ma senti che panico altro stronzo ma guarda come sono tutti vestiti sono usciti da fortnite questi anche io sono nei server chi è questo porco dio ma era un coglione mi ha stannato ma dove i server dai server mi stanno a sparare ragazzi non lo vedo ma dove cazzo è ma quello sei tu sì 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 io sono morto full io e mollo siamo proprio stati annichiliti come sei morto full sì siamo stati annichiliti tutte e due ma questa non vale cioè mi hanno sparato da ovunque è morto pure il maestro ma questo vola è quello lì è speedy gonzarez l'hai vista ma non si vedeva non si vedeva mai guardalo guardalo è dentro i server ma dov'è è dentro i server che corre ma dov'è cazzo sta sto coglione a eccolo muo spuga qua oh porco dio muovo da pia vuoi vedere che mare è per fuori vai vai faccio vuoi vedere che questo lo faccio stirà non entrerò mai più dentro i server brodero mi hanno sparato da ovunque dai pommage parco dio fai da me fai da me pommage dai madonna ma è il panico qua lo devi localizzare brocci se lo vedi a posto se lo vedo esatto anche se non lo vedi io non lo vedevo ma tu cazzo anna eccola qua oh oh ma posso entrare qua no no c'è il servetro me sa viva c'è il servetro c'è il servetro capito questo camper acqua dentro sto pezzo de merda lei è anichilito eh dici è morto c'è il catavere si si è morto sto rotto un culo oh coglio pure che ha la mascherina levagliela madonna l'ho lanciato in culo al mondo ma l'arma sua? vabbè ma restartiamo siete tutti morti vabbè ma l'ho restart'o? si 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 aspetta fammi fai da sto coglione ahah c'è un altro cozzo c'è un altro sopra sta eh infatti a metto fa a benda c'è un altro stronzo si l'ho visto per un attimo facile ma a me mi hanno distrutto da lì ah si get good il fazzone non muore mai ma che verai qua non devi fare un cazzo devi solo ammazzare loro e prendere i nemici e già l'ho perso devi ripulire tutto se ne è stato raga eh siete tutti stirati e gioco da solo dai dai crederci crederci sempre fazzone tu sei il sergente io so quello che sopravvive pazzò facci da sergente dici le mosse da fare i ragazzi tutto voi dovete portare subito una boccia di sambucone e poi andiamo a sinistra gliela ha morto subito andiamo a sinistra che è pieno di sambuconi basta che mi dice che devo fare adesso scappare andiamo ti faccio una lezione più tardi mo andiamo a prendere questi sambuconi occhio che c'è uno qua dietro siete pronti a sparare? mmm ma state a venire con me qua dietro a sinistra? no 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 venite con me qua dietro a sinistra che c'è l'entrata sul balcone no 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 stai rompendo qui no 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 non ho fatto niente via 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 vieni di la è entrata sul balcone si qua c'è l'entrata simpatica dal balcone sergente fazzoni io gioco a mumu jungle ahia porco dio ma me spara uno dal cielo non volevo farti così male ma ma mi stava sponchillando ma stiamo andando in verso giusto Eh, mi sa di sì Quando sponate a sinistra, sì, sì Occhio là sopra che c'è un rotto in culo Ma sul tetto c'è un Enem C'era uno, ma mi ha spruzzato Vuoi venire qua? Qua dentro si può entrare Oh, qua è pieno, vai, vuoi lo dico Però andate avanti voi che io sono già ferito Niente Abbiamo perso il capitano No, no, sono vivo, però Là dentro a quella porta lì controllo quant'altro L'ho fatto fuori, l'ho detonato Ma non era meglio guardare sul tetto C'è il panico, eh Da sotto mi sparavo Sono dentro i server, occhio Ho fucilato Sto procedendo sotto Allora Cazzo, ma quanto rincula questa arma Balconi liberi Sono quasi morto Dove sei, junkie? Sono morto Madonna Ma questa arma fa schifo Ragazzi, un aborto C'era un altro a destra Ah, mi ha shottato È morto anche il fazzone Il capitano è morto Ma avete visto quanto rinculava quell'arma? Ma io ho sparato perché sembrava che ci avesse l'armatura vostra Porco Dio Capitare Eeeh E' morto anche mollo Mi sembra un po' Ok, sto vivo solo io Sì Ah, mazzo, vai dietro Qua c'è un civile a destra Ah, l'hai shottato Eh, da lì mi ha spazzato Da dentro sta porta Non mettetevi la K Cioè, è tipo Vabbè, ma che è la K Ma che sei un terrorista Porta dell'RPG a sto punto Di quanto rincula quel coso Oggi mi hanno fatto trovare una nuova ricetta Tortellini alla Dibala Paolo Dibala Da Ieroma Yahoo No, deve essere più rauco pure quello Yahoo E' tipo Oh, apri, porco Dio Chiazzo, tu lo Vai, vai, vai Yahoo E' tipo Super Mario lui Però sotto cocaina Ma non pensi Sono andato al giapponese con mio figlio Mamma mia, ma chi sei? Pamage Oh, coglione, pezzo di merda Magari da Rotano Non penso faccia uso di sostanze Lui fa uso di sambucone e basta Fa soltanto uso di quello C'era un indice glicemico che... Il sambucone curativo Ristorativo Ristorativo No, perché ricarichi da lì? Che devi far sambucone curativo Tu non hai visto la cosa dove fanno la versione di lui che entra nella farmacia e fa tipo Egregio signore, non è che avrebbe il presidio medico chirurgico e curativo sambucone molinari? No, l'altro giorno mi esce e il sambucone solo molinari bellini fa schifo, no bellini Filippo, grazie dei due Sì, sì, sono finiti, ma sono tranquillo Non sono finiti Sono finiti, sono finiti Che leggenda Eccoci qua Lui vede uno, letteralmente E poi gli fa heads up Madonna, questo è il pose Addestrato per sparare Non importa a chi Qua temi inclusivi Bravo, ma Zio No discriminanze Con tutti i caricatori che stai a cambiare Non te ne becchi uno C'hai un colpo Mi perdono, ma bannate, s'ha un bucone Ma Zio Ma Zio penso che tu sia una delle versioni più forti di sempre Ragazzi, la data center però non ci può No, no, ma questa va a vincere No ragazzi, io ho un'arma che è ingovernabile Vigilace Ma cambiala Non posso Ma usa, usa semi-auto Brudero, anche semi-auto è tipo, boh È presenti puro sangue quelli indiani Ingovernabile Dici non si governa Non si governa Non si governa Mazzone come Pistorius, vede un'ombra e spara Guarda, vi faccio vedere Madre di Dio Oh, passiamo a sinistra tutti insieme, vai C'è stanna, c'è stanna a sinistra, terì Andiamo con Zambugone Molinari Via, 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 via Occhio da sopra Eh, esatto Ma infatti, secondo me, ci conviene Prima puli sopra, eh Eh, se no ti paninano come aprimano i server Esatto Andiamo da sopra Che tanto poi c'è l'entrata per entrare Ai balconcini Guardate, è pieno dei porti Non si capisce un cazzo Qual è il problema? Magari fossi server tele Comunque si definiranno nuclear sopra Qua era uscito Guarda su Non vedo nulla Ok Il maestro sta lasciando, vola Andiamo Ma poi da qui sopra sul tetto si può scendere da qualche parte Sì, 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 sì Qui c'è stata la porta Prima c'era un'entità nemica sul tetto C'era il Zambugone C'è ancora, no? Ok, sali su Guarda, ci potrebbe essere uno stronzo Andate più sopra L'ho anestetizzato Quello che è il maestro Sì Bravo, agenzio Eh, di altri non vedo la scuola però Ok, controllo sta porta, aspetta Oh, c'è un tizio sta per entrare alla porta Vai Proprio persi amici del paguro A posto Bravo Entra Entra Qua è tutto bugato Entro comunque, sono matto Arriva amici Allora Bisogna prendere controllo di sto coso Fatto un coglione Buonissimo, mi arrapi Occhio al piano di sotto che ci sparano dai vetri Tolgo l'arma Fatto un altro imbecille Sei tu questo, sì Sento ancora delle voci lì a destra Procedi Apri questa porta a scale Chi è questo con me, maestro, sei tu? Chi è questo che c'ha il bastone? Olivetti, sei in coglione, grazie per i 36 Allora, vedi questa porta dritta da noi? Questa qua Questa qua Questo non l'hai legato sto coglione Aspetta che volevo io Sta zitto, imbecille, mi mette sparo E questa è una porta esterna Ok, questa qua è libera Ok, questi piccoli server qui vuoti A posto Qui c'è una strana porta Eh, che ricollega mi sa da dove siamo entrati Sì, sì, la slocco Ok Nessuno nei serverini, bro Facciamo andà? Ok, sto vedendo lì C'è un signore strano Oh, qui sotto c'è un coglione Qui sotto proprio È pieno Con dei due tetto che è appena c'è uno Ti ha ammazzato uno stronzo Ottimo Ma chi è che mi... Perché mi spari? Ma chi? Ma c'è uno sotto Di noi che mi spara Io non ho sparato ancora Non è possibile Chi sta in mezzo ai server? Io sono in mezzo ai server adesso Eh, tu, lì, lì Mi hai sparato tu Ma no, bro Ma non siamo entrati adesso T'ho prenduto il civile Civile È sceso giù Eh, sì Opponeva della resistenza Vai, vai, vai Sfonda, sfonda Morto spari multipli Vai, ho fatto fuori uno stronzo Posso controllare qua sotto? Controllo Oh, porco Ma che cazzo? È tipo dei rumori molesti Eh, eravamo noi, bro Allora, qui ho ucciso uno Il si serve Perfetto Allora, è chiuso, è chiuso qua È un'entità nemica Ok, ok Stiamo andando bene, soci, eh È in effetti Ha aiutato questo con lo scudo Non è effettizzato Controllo al bagno Bagno libero Mazza che belle riviste Qua dentro Siro, grazie di sei Oh, giù, giù, giù Pezzo di merda Avva pelato E non è il maestro Giù Dabba, grazie di sei Giù, giù Questa porta non si sfonda Mamma mia Ma che cazzo sono Ci stiamo stendendo qua Ma ragazzi L'abbiamo annichiliti Ma finita Così L'abbiamo annichiliti Ma già finita Ah Ma abbiamo ucciso Ma regà Ma non abbiamo preso i civili Eh, ma dice Failed Ma dice Failed Ma come fai Ma non ho ammazzato nessuno Preciso del Iad Vabbè, voda Mamma mia Quello corbossone Che sta fatti da una smembrata Facci Ma questo è il massimo Dei punti Oh, perfetto Eh, ma non ci ha dato Una missione Ma perché Eh, ma perché la missione Era semplicemente Annichilire Ma no Civili and killed Ma ragà Ma qualcuno l'ho ucciso Eh, gg Avrete sparato A tutto Cioè Porco Dio Sono stato preciso In culo Ma pure tu C'hai, come si dice Addestrato per sparare Addestrato per sparare Più, più, più Più, più, più Oh, perfetto Tutorial Più, 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 più Ma ma tempo Mi è salto all'ultima Che poi Gianco estremizzato A metà che se dà, no? Eh sì Yes Babin No, mi cambia l'armi Che poi io pure vada Dormi Che Cristo Dio Solo anni Non nezza Ti ho scritto Il brother Il porto di Okan Bellissimo Il porto di Okan Ma zio, posso dirlo? Dice oggettivo La lingua del Factos È sempre solo una La lingua del Factos Mi dici Però, raga Il porto Il porto La sola è unica lingua Che parlo Il porto di Okan Lo facciamo in un altro modo Senza flashlight Con i visori notturni Vai, andiamo a fare Il porto di Okan No, ci dobbiamo mettere I visori notturni Venite, venite, venite Ma per metterti Il visore notturno Mi sa che Te li puoi cambiare Anche gli armadetti Di fianco al coso Comunque, eh È vero Eh sì Dobbiamo andarci A mettere il visore Di fregna Sì E togliere il metto balistico Però Quando dicevo quello con la gas mask Stavo tutto Sdro Anch'io Come lo metto, Fabio? Eh, quello tutto in basso, maestro Tutto in basso N, V, E, G, C Yes N, V, G, S N, C, S, P Non ci sono puttane No, muovamo E Ma hai vista le motte del flauto, Gianco? No, non l'ho ancora vista No, devi vedere Dopo posso vederla Levate la Levate la flashlight Dall'arma E mettete Il Pec 15 IR laser Ah, ma basta non usarla Alla fine Pec 15 laser Ma, ma che cazzo Ma, levo Basta anche non usarla L'armena Flaco, grazie dei sedici Anche, anche Non ci sono puttane Beh, meglio di N, C, S, B Beh, ma è anche giusto G, P, F, M Gucci per Francesco Marzano No, no, Fabio sta tutto N, C, S, B Non ci sono bambine P, 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 P Spingere, spingere, porco Dio Uccidere Hide and seek Hide and seek Cos'è hide and seek? Eh, cerchi e distrucci, bro Nel nascondino bello scaffa i cazzi 100 bits buona notte che il porto dio cazzo buona picconata oh che avevi più vicino che avevi più vicino il culo mi si appiccica come l'attivo Fabio? bene ah questo è il cancello principale ma che so ho vista sta missione mi so eccoci qua sono neutralizzato mi sembra che con gli spari era un avengers nemico ma senti come piove io me siedo e mi sento un rumore della pioggia ah un autorizzato fa uso della forza meno 50 ma già avete trollato ma che cosa che ero un cattivo Gianchi però il cattivo gli devi intimare l'arresto ma da quando? ma te che pensavo? e il maestro non lo farebbe ma io gli avrei sparato e buon e come ho fatto io infatti guarda qui c'è un cattivo però io gli ho intimato e se tu hai sparato tu puoi sparare io gli ho intimato e lo abbiamo dovuto arrotare arrotelo col sambu goine copy EMG l'è stato arrotato per forza lo mezzo xd non c'è buon nave ma qua c'è una cosa ma non possiamo andare lì dobbiamo entrare da questa parte è la porta sul retro di pezzi di merda apro eh no è chiusa sfonna non si può guarda ha aperto qualcuno a sinistra sto io sto io sto io porco demonio non si fa così le porte ma è quel pezzo di merda le porte di casa adesso ce le aprono così ma voi siete entrati dentro l'edificio enorme sì eh sì cosa avvennevano qui il pc di mattone bellissimo è certa forti eh son morto ecco che son morto eh son andato un po' in avant scoperta e stavano camperando fuori dall'edificio in tre capito sti pezzi di coglioni faccio così se giochi vabbè tranquilli era tutto premeditato per andare a prendere il mio bel mandarino la merenda scendiamo? ma è vero senza abizione te vede una cifra meglio in realtà ragazzi comunque il visore inutile ma tanto meglio ma non c'era scura questa macchina ma dove bisogna andare e qui li passano da qua forse da questo cancello possibile cavoli grass per i sei matti grass per il sap che ecco grass per i 42 qua siamo all'inizio e noi ragazzi poi andiamo a fare una giochessata poi quando finiscono l'estremo è già marco qualche cazzo che se sta a beversa un bugone molinari mi sa che a sto punto ho toccato col fazzone raga com'è? se li fa col fazzone devo sta col fazzone? no se li fa col fazzone no no perché siete tutti morti? eh no ma tanto era all'inizio no no giocate sto a mangiare ma mi sa che qui è qui la zona dov'è? è il grande capanno eh non so come dirtelo ma c'era un capanno di fuori che stavano camperando ho ammazzato uno e l'altro mi ha shottato eh sì era questa zona era tipo qua verso il capo master mi ha troncato in due questo un po' troppo resistenti questi nemici io sono da solo ah no non ho più munizioni c'è uno qui a destra madonna ma chi è la frost? buono ah sì ma i mandarini sono la cosa più buona del mondo mamma mia non l'abbiamo anniferito a questo ah anche questo con un colpo va più confuso perché sei il migliore e poi insomma i mandarini sono clementine queste ma c'è un sospetto ma qui il fazzone che è morto sono mandarini senza semi fazzone guarda il fazzone quanta gente c'era sono più dolci non lo so ragazzi ho mangiato il mandarino cinese no la buccia tipo una specie di patata che c'è il lardire di uscire così da un angolo dove ci sono io lardore di sicuro yes no devo dirti che sei il migliore bro grazie dai codro buttala là sentimo per caso mi stai chiedendo una atroxata ma il capo masto ha appena shottato un cristiano ma il capo masto è un terrorista peggio del maestro niente di sbagliato in tutto ciò ma manco io mi hanno sparato aspetto recuperato ah dici lì sì in extreme e viva la fazza non lo so ma quanto c'è sto metta a sbuccia un mandarino e poi se buccia è buona e lo mette sopra la tombola di natale lui è un cazzo di 44 che cazzo ma qui siete già arrivati voi si può masto? non ci passi cazzo ma qua c'era quella zona di edificio abbandonato ma come buccia sopra il termosifone per profumare? è vero eh ho capito oggi gli ho fatto mangiare l'insalata ma come? si mangia tutto tanto è un onniforo sarei pure goduta insalata in posto bravo marzo perché non è stato in questa zona? boh digerirà una cazzo di foglia di insalata penso non ci siano problemi ne è che gli ho dato il salame perché sapevo che l'uva per esempio ha i cani è molto nociva che cazzo la mangia l'uva? beh no però per di non so c'è anche cose che non ti aspetti quando è la stagione dell'uva? è autunno ma forse anche è mucchio è autunno la stagione dell'uva sento spari non vedo entità nemiche cioè è passata ormai non la posso mangiare no vabbè la trovi ma la trovi? ma la trovi? si serra che cazzo te frego no è che vorrei mangiare la frutta del stagione che è 1000x mi esiste l'uva senza semi tipo i mandarini è sto prato? eh sì porco dio mi ce chiudo ma il magno sul campione è solo di quella scusa ma perché non i semi l'ingoglio? no l'ingoglio bro c'è l'uva baresana buonissimo fateli da sabino ce l'hai in chat sabino penso di sì l'uva baresana a te ti giuro il bene che voglio a mia madre è una hit davide cazzo di set viva la razza viva la mazza dove era a destra? aspettate una prorema ho finito i colpi no maestro mi ha fucilato eh bro io finito i colpi no siete tutti morti baron sono tutti morti baron porco due mi hanno messo in tante una stanza c'era rambo per l'ultimo un po' di mitraglione che hanno si spiove dei due non la stavo facendo per niente male anche una n vabbè vi posso dire è il suo ha fatto è il suo ha dato ha fatto però posso dire oh bello io pensavo fosse una cagata eh se lo volevo giocare la prossima volta dobbiamo far ci scariciamo tutte le custom l'avevo giocato la prima volta e non tanto mi era piaciuto invece è così l'ho fillato forse perché Paolo aveva messo tutte le gozze dovevi giocare a Cristo la Madonna Troia ma c'è una difficoltà? eh no in realtà adesso hanno cambiato che praticamente le missioni prima le fai a livello più facile poi sempre andando avanti sono più però le devi completare mi sa a me riga tutta sta roba non c'è cioè quando giocavo che feci con Giorgio era letteralmente one bomb mi sa che sarà buggato prima a me oh non lo so secondo me sì secondo me c'è la difficoltà che tipo cioè se prendi un colpo muori eh sì infatti così è quindi tu non ti accorgi che te stanno sparata spara sei morto e finito ma perché i tempi tuoi maestro l'hanno turbo aggiornato eh sì sì no vabbè stavamo parlato in anno e mezzo forse due anni fa eh quindi è stato aggiornato un po' di recente pure eh carino carino vabbè ragazzi vado a fishare ci vediamo più tardi se volete fare qualche caso daie daie ciao rega bella 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 sound muted